Tiro libero, qualche errore anche a Cantu, errori inconsueti per un giocatore che tira dalla lunetta con oltre l'80% e buono il secondo, parità 9 a 9 da lui l'incoraggiamento del pubblico, seconda opportunità per il beniamino dei tifosi Oro Granata 2 su 3 per Clark Scuotra ovviamente sta facendo una grandissima partita Coach Menetti sta dando fiducia a Cervi perché lo rimette in campo giustamente dopo un buon impatto nel primo, secondo e quarto e ora il popolo reierino a trascinare la squadra in un momento topico del match il canesso di Clark, tanto atteso nel momento più importante mi ha tolto le parole di bocca, lo stavano aspettando tutti Reier potrebbe anche scegliere di mandare lunetta agli avversari Clark potrebbe mettere la firma sulla partita nonostante non una gran serata problemi dei liberi, stiamo a vedere e non sbaglia il primo figli Clark se dovesse realizzare anche questo canestro che lo vede in questo modo magari l'ultimo possesso e non prendere un tiro a tre punti che la manderebbe a supplementare 2 su 2, più 3, umana, 60-57, ultimo timato dei tempi regolamentari